Ciao amici di Video Varese, oggi siamo alla libreria Kendro e abbiamo un incontro speciale con una persona che io conosco molto bene perché è il mio papà che ha scritto questi due libri. Papà sappiamo che tu non sei uno scrittore, come mai hai scelto di scrivere la tua storia? Perché ho scelto che in sostanza non bisogna stare zitti, soprattutto quando la storia è una storia come la mia e quindi da ex ammalato di cancro, la scelta è di scrivere un libro durante il periodo della chemioterapia per dare un messaggio positivo e di speranza a chi la speranza spesso la sta perdendo, l'ammalato oncologico. Infatti noi oggi abbiamo visto la tua testimonianza e hai parlato appunto dell'importanza di dare questo messaggio per quanto riguarda la malattia, visto che purtroppo tante persone sicuramente la stanno vivendo. Ti senti di dire qualcosa, guardando la telecamera, a questo magari ammalato che ci sta seguendo per dargli anche un attimo di speranza, spiegandogli comunque che anche tu hai vissuto questa cosa. Che cosa avresti voluto sentirti dire in quel momento te? Il mio molto probabilmente è un cammino legato alla fede, quindi questo discorso di fede che mi ha accompagnato durante il periodo della mia vita è questa fede che si è fatta sentire nel periodo della malattia. Quindi un cammino condiviso con il Padre Eterno. È chiaro che nel momento in cui ti diagnosticano una malattia come il cancro, mi piace sempre usare la parola cancro e non malattia incurabile piuttosto che grave malattia, ma cancro e quindi si lotta contro il cancro. È chiaro che se la fede è dalla tua parte, tu riesci a vivere una vicissitudine pesante come può essere la malattia. Quando ti comunicano che sei ammalato, quando perdi l'immortalità e quindi in una fazione di sé conto da persona viva diventi possibile persona morta, ecco che allora la fede ti serve e ti aiuta. Ci tengo anche a chiederti, oggi abbiamo fatto questo incontro dove i protagonisti sono stati i tuoi libri, ma c'è tutto un programma dietro alla vendita dei tuoi libri, visto che tu, come hai sempre detto, non ti definisci uno scrittore, ma dici che sei il portatore di questo libro e il libro ha le gambe e usa le tue. Ci vuoi spiegare un po' questa cosa? Sì, perché per scelta io ho deciso di andare a testimoniare la mia storia, affrontando tutte le difficoltà che ci sono nell'andare a testimoniare, ricevendo tante porte in faccia. Però, come dice Papa Francesco, la Chiesa cammina attraverso la testimonianza. Di conseguenza io mi racconto, dove mi racconto, nelle parrocchie, nei gruppi di famiglia, nei gruppi di preghiera, chiunque mi voglia invitare basta contattarmi per raccontare la mia storia, per vendere dei libri i cui proventi vanno alle missioni. Abbiamo detto quindi che sei disponibile anche ad andare a parlare della tua storia, ma dove ti possono trovare, come ti contattano le persone? Ci sono due modi, o attraverso una mail, che la vado a dettare, degiorgio.antonellochiocciolagmail.com oppure semplicemente sulla mia pagina Facebook con un messaggio. Bene, quindi io ringrazierei Video Varese, prima di tutto, che ci ha dato la possibilità di fare questa intervista e anche Kentro, questa splendida libreria che ci ha colto qui oggi.